Cresce la speranza di rivedere i vecchi confini della riserva naturale del Borsacchio dopo la cancellazione di 1.075 ettari, lasciando appena 25 ettari di area protetta decisa dalla Regione. Nel cuore della notte a fine dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha comunicato che la legge di rivedere il perimetro presenterebbe diversi punti contestabili, una prima vittoria da parte delle associazioni ambientaliste. Si sapeva che il Consiglio dei Ministri molto probabilmente avrebbe impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, quindi il Presidente Marsiglio ha mandato una nota ufficiale nella quale si è impegnata a riportare i confini della riserva, il perimetro nel primo Consiglio utile e nel frattempo, tra virgolette, congelare gli effetti di quella che era stata quella scelta scellerata delle 29 dicembre. Il Governatore Marco Marsiglio, in una lettera indirizzata al Consiglio dei Ministri, ha comunicato che il tema riserva e i suoi confini saranno dibattuti nella prima assise regionale. È un passo importante che probabilmente si sarebbe dovuto compiere prima, perché ricordiamo che il Consiglio regionale avrebbe potuto approvare, prima del suo scioglimento, il ritorno ai confini originari. Si tratta adesso però di capire quale sarà la proposta che presenterà la Regione, su cui sono tenuti ad aprire il confronto con gli enti locali e con i portatori di interesse, tra cui le associazioni ambientaliste. Le associazioni ambientaliste a questo punto sono fiduciose. Il ricorso al Consiglio di Stato, con circa 30.000 firme raccolte, sembra dunque scongiurato. Per noi la riserva deve tornare ai 1.100 ettari originari, deve essere immediatamente approvato il piano di assetto naturalistico, che è ormai stato concluso con la presa d'atto anche del Comune di Roseto, e deve essere creato un ente gestore che possa servire sia per la conservazione di quel territorio così importante, ma anche per la sua valorizzazione.